Con Elislein il Partito Democratico ha aperto una nuova stagione, c'è entusiasmo, sondaggi in crescita, insomma dati incoraggianti per il futuro? Assolutamente sì, quello che abbiamo registrato da queste primarie è stata innanzitutto la grande partecipazione del popolo, degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico e in secondo luogo l'entusiasmo che si è registrato subito dopo la fine delle primarie, che è stata una grossa ondata di partecipazione e di tesseramento. Noi di questo non possiamo che essere contenti e in questo momento penso che sia responsabilità di tutti quanti essere insieme alla segretaria parte di questo moto di rinnovamento e di andare avanti con grande spirito di unità. Lei ha sostenuto Bonaccini, secondo lei un partito troppo di sinistra è un fattore positivo di slancio oppure può far perdere quella la moderata necessaria al PD? Io sono una di quelle persone che ritenendosi di sinistra ha sostenuto Stefano Bonaccini quindi non penso che l'essere di sinistra ecco sia un disvalore, un disvalore né una cosa che non trova cittadinanza all'interno del Partito Democratico, anzi. Penso che però il tipo di sinistra che siamo come PD è una sinistra capace di comprendere il grande valore del consenso inteso come del tenere dentro le tante sensibilità e che si pone sempre il tema di come anche arrivare a cambiare le cose governando i processi e non solo facendo battaglie identitarie. Però penso che sarà molto importante dimostrare grande capacità di non far sentire fuori posto nessuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.